Fabio Ianni, l'ASM in primo piano proprio nel cercare di riciclare. Sì, noi abbiamo partecipato a questa manifestazione, ringraziamo anche il Comiego che ha dato modo di presentare questo magnifico stand sul nostro territorio. Siamo in primo piano nella lotta per il riciclo dei rifiuti. Noi stiamo passando un periodo legato al fatto della città in ricostruzione e quindi purtroppo intercettiamo dei rifiuti che non sono i classici rifiuti urbani che le altre città hanno. Noi purtroppo abbiamo un'interferenza da alcune ditte che sono legate alla ricostruzione che vanno ad incrementare quello che è l'indifferenziato e di conseguenza annullano quello che è la raccolta differenziata fatta sia dal porta a porta che dalle varie fasi di raccolta stradale e direttamente nelle grandi utenze. Ecco, queste manifestazioni tipo il Palacomieco servono proprio per sensibilizzare gli aquilani al riciclo. Sì, sono manifestazioni che servono a sensibilizzare gli aquilani al riciclo ma soprattutto sono manifestazioni che ci fanno anche capire che noi siamo in quell'indotto e non siamo tenuti fuori. Siamo sempre in primo piano, sempre in prima linea nel cercare di aumentare la differenziata e man mano riprenderci la città che a piccoli tratti, a piccoli step è in ricostruzione. Quindi ben presto ne avremo una nuova. In linea con quanto dichiarato da Comieco, confermiamo la previsione di aumentare i quantitativi della carta e del cartone e del tetrapack per l'anno 2018 anche a fronte della piattaforma ecologica di imminente inaugurazione che consentirà di gestire in maniera ottimale i flussi della raccolta differenziata su tutto il territorio aquilano, ha commentato Fabio Ianni di SMSPA. Al momento noi abbiamo il 65% del territorio coperto dal porta a porta, l'altro restante è in fase di espansione. Chiaramente l'espansione ci sta comportando dei problemi che sono legati sia alla conformazione della popolazione che dopo il terremoto ha preso, comunque è cambiata la demografia degli residenti e stiamo cercando di capire come si evolve la città man mano.